Ogni anno il Movimento di Stile ha un cittadino più dentro le istituzioni, uno dei nostri e uno meno dei loro. Cito il grande Di Maio, che aspettato, che aspettato, che onore, che onore. Grazie, ti vogliamo bene, zio, grazie zio. Due cose poi vi saluto, poi su movimentocinquestere.toscana.it progressivamente aggiungiamo tutti i vari punti di programma. Turismo, voi pensate la Toscana, è la sesta regione in Italia per afflusso di turisti stranieri, vuol dire che uno prima di venire in Toscana va da altre 5 regioni. Vi rendete conto? La sesta regione in Italia, incidiamo solo per il 6% del PIB regionale, lì ci giochiamo una sfida grandissima. Lì ci giochiamo una sfida grandissima, lì la nostra potenzialità, la chiamano asset strategico. Ma vogliamo crederci una volta per tutte sul turismo? Vogliamo puntare, giocarcela tutta. Proviamoci, pianifichiamo. In Europa ci sono dei fondi, noi italiani versiamo quasi 16 miliardi di Euro, ne recuperiamo un pochi più di 9. Doe benvenuto anche il nostro Fabio Massimo Castaldo, Euro parlamentare. Grazie di essere qua, grazie. È un segnale, è un segnale perché faremo rete in regione, a tutti i livelli istituzionali. Andremo in Europa a fare dell'euro progettazione. La regione toscana cosa ha fatto? Andiamo a vedere dove sono stati spesi i soldi. Chi li ha presi? Le solite società, chi li ha presi? Fuori i nomi, fuori i nomi, fuori i nomi.